Due operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Lo rende noto l'ASL aggiungendo che i lavoratori, entrambi 59enni, sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata del Capoluogo Ionico. Dopo la prima valutazione per uno di loro è stato disposto il ricovero nel reparto di neurochirurgia per le successive valutazioni. E' vigile, informa l'ASL e collaborante, a breve sarà sottoposto a un attack di controllo. Il secondo è in codice arancione con una prognosi di 30 giorni. Il direttore generale dell'ASL Taranto, Gregorio Colacicco, segue costantemente l'evolversi sanitario dei due operai. A quanto si è appreso si tratterebbe di lavoratori di una ditta d'appalto che sarebbero caduti da un trabatello per cause in corso di accertamento. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore alla sanità Roccopalese si sono messi in contatto con la direzione generale dell'ASL Taranto per essere messi al corrente della dinamica di quanto accaduto. Emiliano e Palese stanno seguendo per il tramite dell'ASL l'evoluzione delle condizioni di salute dei lavoratori coinvolti e esprimono solidarietà e vicinanza personale e della regione ai feriti e ai loro familiari, colleghi e amici, augurando una pronta guarigione.